Premio Romani 2018, Samantha Pardini dell'Associazione Incanto. Ecco Burlamacca ondina. Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio. La piccola Monica Guidi attende i genitori proprio qua in Piazza Mazzini, sotto il pennone dove garrisce la Burlamacca. Samantha, questo annuncio viene fatto decine di volte per ogni corso mascherato. Quanto è stata importante la vostra presenza all'interno del circuito perché non si verificasse la necessità di fare questo annuncio? Io spero tante. Spero tante. Per noi è stato un onore far parte del Carnevale. Questo è il secondo anno e quest'anno abbiamo cercato di renderlo ancora più speciale. l'abbiamo fatto a tema, abbiamo cercato di esserci anche prima perché abbiamo visto che molte famiglie arrivano la mattina e quindi hanno bisogno di avere qualcuno che intrattenga i bambini magari prima dell'inizio del corso. E poi durante il corso siamo stati con mercoli bambini. Grazie Samantha, grazie mille per il vostro servizio. Premio Brunello Romani 2018, Samantha Pardini, Associazione Incanto. Grazie mille per il loro servizio.